I sottosegretari della Lega si trovano adesso a guidare di castelli importanti della transizione ecologica, coloro i quali sono sempre stati a favore dell'uso del petrolio e questo ci preoccupa molto. Dall'altra parte, forze della sinistra come Partito Democratico e l'EU, che si sono sempre dichiarati a favore della transizione ecologica, rinunciano a presidiare un di castello importante come quello della conversione ecologica. A noi pare un grande pasticcio. Atteniamo quindi il governo alla prova dei fatti, su recovery fund, se ci saranno quindi politiche con più trasporto pubblico, più energie pulite, per attuare una politica che crei più posti di lavoro nel nostro paese.